In Versiglia, negli anni 20 dell'Ottocento, sorsero i primi stabilimenti balneari dedicati a un turismo d'élite, i borghesi colti aristocratici alla ricerca di riposo e svago nelle calde giornate estive. A Livorno, sul fronte mare, lungo la strada litoranea su cui si affacciavano gli eleganti palazzi signorini, si iniziarono a costruire una serie di pontili di legno che ospitavano i primi stabilimenti balneari. Qui soggiornava anche il Granduca di Toscana, Leopoldo II di Lorena. Per lui durante l'estate veniva retto un padiglione in ferro dove la famiglia Granducale andava a fare i bagni, al riparo da sguardi indiscreti. Sì, perché esibire in pubblico il proprio corpo era ancora considerato sconveniente, per le donne soprattutto, che passeggiavano sul lungomare con ampi abiti alla caviglia e portavano un ombrellino per proteggersi dal caldo del sole. Fu nel 1840 che vennero inaugurati a Livorno i bagni acquaviva, edificati da Giuseppe Santi Palmieri, dai quali successivamente presero il nome, che dotò il suo stabilimento delle migliori comodità, costruendovi una famosa rotonda per la libera e utile respirazione dell'aria marina, al termine di un lungo pontile di legno. Nella bella stagione veniva fissato un grande tendone di forma circolare per ospitare i clienti dei bagni, che da qui potevano ammirare il promontorio sul mare comodamente seduti, riposando o conversando al riparo dai raggi del sole. Tra i frequentatori del Lido di Livorno c'era anche la moglie di Giovanni Fattori, Settimia Vannucci. Soffriva di tubercolosi e trovava giovamento nell'aria di mare del litorale toscano. Sogiornava nella casa di un parente proprio di fronte al litorale e passava le sue giornate a rilassarsi all'ombra del tendone della rotonda dei bagni. È proprio questo stabilimento che il pittore decise di rappresentare nel celebre dipinto, la rotonda dei bagni palmieri. Il dipinto è stato realizzato su una piccola tavoletta di legno delle dimensioni di appena 35 x 12 cm. Oggi è esposta la galleria di arte moderna di Palazzo Pitti a Firenze. La prevalenza della dimensione orizzontale su quella verticale la fanno apparire come una panoramica, una visione grandangolare. Le ridotte dimensioni del dipinto sono enfatizzate anche dalla grandezza della cornice, che pare quasi sproporzionata a confronto. Numerosi schizzi di quest'opera dimostrano l'attenzione che pose il pittore sull'inquadratura del soggetto. Sono sette donne perfettamente al centro della composizione che creano un movimento armonioso con i loro atteggiamenti liberi e disinvolti. Alcune sono di profilo, altre di schiena, sedute mentre conversano e si rilassano davanti al mare. Il fondo della tavola è incorniciato sopra e sotto dall'ocra del tendone e dalla sua ombra proiettata a terra, poi definito dall'andamento orizzontale della costa, dalla lingua di mare e dal cielo azzurro pastello che fattori appena accenna. Semplifica con larghe pennellate di colore puro che assecondano l'andamento della tavoletta, che contrastano ed evidenziano l'aggraziato e sinuoso svolgersi del gruppo di donne abbigliate con lunghi vestiti e mantelline per coprirsi durante la mezza stagione, l'una diversa dall'altra. Fattori usa la macchia per rappresentarle in modo semplificato, senza definire i particolari. Non è il disegno che crea le forme, ma le macchie di colore. E la sottile linea di contorno che definisce la loro fisionomia non è altro che la circoscrizione della macchia che l'artista usa per dare a loro un'identità. Ogni figura ha un abito, un atteggiamento, una postura, un cappellino diverso, reso attraverso un'estrema sintesi, il riferimento al primo rinascimento o alle figure monumentali di Giotto. Eppure Fattori non usa né la prospettiva né il chiaroscuro per dare profondità, ma lo fa attraverso l'andamento delle masse cromatiche perfettamente bilanciate con toni chiari e scuri, poi caldi e poi freddi. Il supporto di legno grezzo lascia intravedere la trama, non una superficie liscia e levigata che avrebbe reso smaltate e astratte le figure femminili. Forse per questo l'artista ha usato il fondo di una scatola di sigari per realizzare il dipinto, come spesso faceva vantandosene. In basso a destra troviamo la firma, Giotto Fattori 1866. L'anno successivo la trentenne Settimia morirà, ma Giovanni Fattori si risposerà ancora due volte e anche quando la terza moglie passerà a miglior vita ormai anziano il pittore non si sposerà più, ma decise di giovarsi della compagnia delle sue allieve, le quali contribuirono a una serena vivacità di spirito.